Benvenuti felicini! Benvenuti felicini! Ciao ciao! Oggi vi facciamo vedere un altro libro in feltro, sempre libri tattili, noi siamo amanti di questi libroni. E' buio! E' pure tu Sara, vero? Ecco qua, lo apriamo al bottoncino così i bambini imparano anche a sbottonare e a bottonare e iniziamo! C'è la prima pagina con un orologio per imparare l'orario. Per imparare l'orario, eh sì, qui possiamo spostare la nostra freccetta ogni giorno per identificare quindi se c'è il sole, se c'è la luna con le stelle la sera, se c'è il temporale, piove forte, insomma, se ci sono le nuvole. Tipo da voi è nuvoloso, mettete il nuvoloso. Certo! Vai Sara! Qui ci sono, ecco, per imparare a fare i lacci. Sì! Qui invece, quindi, c'è disegnata la nostra bella scarpetta, guardate quanto è fatta bene e poi i lacetti. Qui invece, prendete il vostro epipotomino! Cosa facciamo? Mettiamo per i bambini così imparano anche a lavarsi i denti. Ecco qua, così stimolati dalle immagini. Che cosa fanno? Poi riproducono anche questo nella vita reale, quindi cominceranno anche i vostri bambini a lavarsi i denti. Mettilo tu, metterlo. Adesso lascialo, così andiamo avanti. E qui abbiamo la nostra pentola con il fuoco e i fornelli, è vero? Dimmi, eh sì, e dentro c'è tutta la verdura che sta cuocendo, quindi c'è il broccolo, c'è la melanzana, la carota, il finocchio, va bene. E poi c'è la cuccia di un cagnolino che sta andando a fare una rossina. Eh sì, eh sì, c'è il guinzaglio, si stacca e lo possiamo portare sempre in giro per tutta la nostra storia. Ma voi vi ricordate di quale video è questo cagnolino anche? Eh sì, c'è anche nell'altro video tattile, sì sì, nell'altro libro tattile. Poi c'è l'abbaco! Ecco qua, l'abbaco per i bimbi che stanno imparando a contare. Fino ad otto. È fino ad otto qui, sì, è un po' strana questa cosa, però sì. È fino ad otto perché le pagine sono molto più piccole. Eh sì, sì sì, poi qui abbiamo i nostri fiorellini, guardate un po' che simpatica idea. Per imparare a sbottonare e ad abbottonare ci sono quindi questi fiorellini che possono staccare e riattaccare i nostri bimbi. Sì sì, pure tu Sara. Adesso li lasciamo così e andiamo avanti. Qui invece abbiamo un sacco di forme. Possiamo staccare tutte le forme. Sì Sara, e ricostruire il nostro quadrato, ok? Con i triangoli, con il quadrato, guarda. E poi qui possiamo collegare quindi le immagini al posto giusto. Tipo, no, c'è questa stella e poi la dovete collegare alla stella. Con l'altra stella. Il cerchio, a quale lo colleghiamo? All'altro cerchio. Il quadrato al quadrato. Bravissima Sara, sì. È il triangolo, altri? No Sara! Vabbè. Che monella! Poi c'è l'orto dove si mettono le carote e si mettono qua dentro. Eh sì, perché possiamo tirare quindi le nostre carotine e intanto anche contarle. Poi qui c'è una cosa simpatica. Praticamente. La nostra balena. Sì, questa zip. Che sarebbe la bocca della balena. Così intanto il bimbo imparerà a chiudere e ad aprire la zip. Eh sì. E si mettono i pesciolini dentro e poi si chiude un pochino la bocca e sembra che se lo mangia. Eh sì, quindi qua faremo vedere quanti pesciolini si mangerà la balena. E i bambini potranno sia contare che discriminare quindi i colori dei pesci. Per esempio, metti nella balena il pesce arancione. Oppure quale? Il pesce arancione. E così via. Ecco qui, il nostro video è terminato. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e anche questo libro. Ciao felicini e al prossimo video!